Questa è la felpa Milwaukee, in grado di scaldarti fino a 8 ore con un'unica batteria. Andiamo a vedere come funziona! Ciao, sono Chiara del Centro Marini Pro Worker e oggi ci troviamo nell'area tecnica. In questo video andremo a scoprire tutte le caratteristiche tecniche della nuova felpa Milwaukee a batteria, che vi riscalderà con un'unica batteria M12 fino a 8 ore continue. Questa felpa si presenta già molto robusta di per sé. È dotata di un cavetto per collegare la basetta porta batteria M12 della Milwaukee, che verrà inserita nella tasca o posteriore o anteriore, in base a come vi è più comoda. È dotata di un tastino di regolazione di temperatura One Touch, con tre modalità di calore, alta, media e bassa. Le zone di riscaldamento sono tre, addome, torace e la zona delle spalle. In inverno è consigliabile indossarla come primo strato e in primavera come una semplice giacca. Completamente lavabile in lavatrice e in asciugatrice. Per questo video è tutto, per info e acquisto guarda in descrizione. Ricorda di iscriverti al canale e soprattutto il Centro Marini Pro Worker è al servizio del professionista. Ricorda di iscriverti al canale e revisione a cura di QTSS 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 di QTSS. Ricorda di QTSS di QTSS di QTSS.